I guardiani, non posso crederci! Cosa vuole questa setta dalla tua famiglia? Sono dei folli che credono a una vecchia leggenda. Credono che mio nonno Morgan sapesse dove si trova la fonte della giovinezza. Ed è vero? È solo una leggenda. Forza! Mio zio è laggiù da qualche parte. La qualità del legname in questa zona è troppo scarsa per costruire navi. Dovremmo affidarci alla vostra marina, colonnello Washington. Le mie navi da guerra entreranno presto in questi grandi laghi. Nel frattempo dobbiamo stabilire una base qui e costruire dei cannoni. Trammo chi non ci sierebbe! Questa è gitarra. Il frattempo la fisca è 주uta. Questa è un'altra situazione. È un'altra situazione. Questa è un'altra situazione. Questa è un'altra situazione. Questa è un'altra situazione. Questa è un'altra situazione. Assoluta stessa. Un'altra situazione. Grazie a tutti. 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 I'm ready. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Washington ci ha inviato navi da trasporto. Usiamole per assaltare la base... Grazie a tutti. Grazie a tutti.